Allora, ha sfilato, sta da far scendere, non sta in giro? Ma non è più, c'è io? È logico, è logico! Guarda! Ciao! Guarda! Grazie a tutti noi per questa splendida accoglienza! Carnevale 2019! Ganonici, ringraziamo tutte le associazioni che hanno partecipato a questa balanza a come un'importante, 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 a come un'importante.